Zip News. Zip News. Zip News. Zip News. Le notizie nel modo più veloce. Zip News. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della Nato. Il presidente americano Joe Biden dichiara che Washington incrementerà la sua presenza militare sul suolo europeo. Il Covid ricovera in crescita del 17,7% e del 13,3% per quanto riguarda quelli pediatrici in Italia. Incidere sul rialzo principalmente i pazienti ricoverati nelle parti ordinarie aumentati complessivamente del 20,9%. Reddito di cittadinanza illecito. 44 persone, tutte residenti nei principali campi nomadi di Bologna, sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Morte sul lavoro in Sicilia, paternò un 61enne caduto dal Montacarichi mentre eseguiva dei lavori edili. Incendi nel Palermitano, a fuoco le montagne tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, roghi anche a Mezzoiuso in fumo, centinaia di ettari. E torniamo negli Stati Uniti. Di vieto di aborto sospeso fino al 12 luglio da un tribunale del Texas, ma restano comunque in vigore le limitazioni previste dalla legge. È tutto, grazie per averci ascoltato in regia. Rosario Perez.